Ora siamo al museo dell'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Taormina dedicata al maresciallo Bonanno Francesco, medaglia d'argento valore militare. Qui abbiamo i vari cimeli riguardanti i carabinieri della zona di Taormina. Unitamente all'Associazione Marinaia d'Italia. Qui abbiamo la carica di pastrengo. Interessanti questi volumi antichi. Ecco, questo ricorderanno i carabinieri più anziani, il famoso brogliaccio. Ecco, qui alcune manette di uso antico. I famosi schiavettoni, cioè quelle che io chiamavo le manette quadrate, che fino a vent'anni fa mi ricordo che si usavano. Qui ancora cimeli e fotografie, ricordi storici. Vittorio Emanuele I, fondatore dell'Arma dei Carabinieri. Il primo comandante è Giuseppe Tavon de Revelle di Sant'Andrea. Vittorio Emanuele III. La bandiera Stemma-Sabaudo. E qui c'è il gruppo dei marinai. Ecco, questa riproduzione di mass si trova nella villa comunale di Daormina. Grazie. Grazie. Grazie.